e vai abbiamo preso il furgone di rod ma cosa è successo ma guardate qua a che volo che si è fatto e adesso ce ne andiamo via da questo bruttissimo posto da questa bruttissima fabbrica carissimi amici è arrivato panino tube ci torniamo su ice cream 4 nel quarto capitolo del gelataio perché finalmente oggi ruberemo il furgone di rod lo ruberemo e lo useremo per guidare all'interno della fabbrica e anche all'esterno della fabbrica e quindi che dire partiamo subito ma come sempre siete qui sotto tantissimi like se like che lascerete sarà per il personaggio associato a voi sarà rod il gelataio se invece il like sarà disparo il personaggio associato a voi sarà mister mit fatemi sapere qui sotto nei commenti a quale personaggio siete associati iscrivetevi al canale con la campanella attiva così anche voi farete parte della panino femmine ma adesso partiamo subito cominciamo perché non vedo l'ora di guidare il furgone del gelataio mamma mia era dai tempi di ice cream 3 che non guidavo il furgone di rod dai tempi di quel terzo capitolo tocchiamo subito gioca e si comincia vediamo pure se riusciamo tipo a fare qualche nuovo finale segreto con il furgone di rod voglio vedere così per curiosità che cosa si riesce a fare perfetto siamo sempre ovviamente con la mod di outwit perché purtroppo questa cosa del furgone si può fare solo con questa mod ok prendi quella chiave inglese togliamo quel lucchetto velocemente senza farci vedere dal mini roddino che lui gira qui controlla sorveglia il posto per evitare che nessuno possa scappare solo che io puntualmente scappo sempre quindi non risolve nulla c'è veramente rod potevi metterci qualcun altro a guardia hai messo sto mini roddino che tanto neanche ci vede e guardate non mi vede non mi vede eppure sono comunque davanti a lui lì ci sono i suoi occhi ok va bene andiamo di qua apri quel cancello si il cancello la cosa apriamo quella porta chissà se con il furgone di rodd possiamo investire anche qua boris sono veramente curioso dopo proviamo a farlo adesso comunque andiamo di qua velocemente andiamo subito a prendere il trofeo che ci servirà per svitare appunto la grata allora apri qua la porta trofeo trovato subito meglio così meno male meno male meno male apri qua voilà gelataio siete a queste parti caro roddino non è di qua quindi allora andiamo da questo lato apri la porta ciao adesso facciamo con calma perché è vero sono con la mod ma non ottivo il god mod neanche il ghost mod quindi il rod mi può vedere eccolo là infatti meglio che mi nascondo qua di lato non voglio farmi vedere da nessuna ragione eccolo là dove sta andando ah sta andando di là a prendere un'altra chiave inglese l'ennesima chiave inglese va a prendere rodd su su rodd è pure di là veloce 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 che devo stare qua ad aspettare tutte le volte ora dove va sta salendo qui sopra no meno male meno male vai rodd ripara pure il furgone riparalo pure che dopo me lo vengo a prendere almeno così dopo guidiamo il furgone di rodd tutto quanto bello riparato abbassa la scaletta perfetto ce ne andiamo di qua abbassati svitiamo qua vite numero uno e la togliamo subito vite numero due e togliamo anche questa sì che bello rodd ti ridò il trofeo e ora me ne vado via via su su entra 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 vai 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 scappiamo 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 prima che venga roddino prima che il gelatoio venga a raggiungerci ok su su veloce 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 togliamo qua la grata sì ce l'abbiamo fatta vai e lì rodd che dice come sfuggente questo fanciullo no rodd non è che io sono sfuggente se te che sei così pigro che non riesce a passare di qua no e poi lui non fa mai ginnastica vi ricordate negli altri video quando ci rincorreva che correva tutto quanto in quel modo strano dondolando la testa ecco lì l'avevo pure sgridato rodd l'avevo sgridato perché lui non fa mai ginnastica quindi non si è tenuto in allenamento per seguirmi da notare comunque che qua jay non è nella sua forma più smagliante qua è diventato un chubby boy perché ha mangiato il gelato il gelato l'ha trasformato in un chubby boy quindi tecnicamente per rodd sarebbe ancora più facile venire a prenderla no ok vediamo qua qui c'è qualcosa vabbè tanto siamo con la mod quindi non è che mi tratterò più di tanto oh mamma mia oh mamma mia oh mamma mia sta arrivando il mini roddino ma io mi nascondo di qua non voglio farmi vedere ok non mi ha trovato non mi ha visto quindi neanche ha fatto rumore abbassa di qua velocemente voglio provare a raggiungere l'altra parte della fabbrica senza farmi vedere dai mini rodd ok qua non c'è nessuno lì però c'è un mini rodd quindi direi di fare attenzione passiamo di qua veloce 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 qui c'è qualcuno ok qua non c'è nessuno meno male meno male andiamo di qua perfetto ok facciamo soltanto attenzione adesso da questo lato perché di qua invece i mini rodd ci sono qui ce n'è uno ok è andato di là perfetto perfetto uh siamo riusciti a raggiungere questo posto senza farci prendere dai mini rodd meglio così ma meno male meno male ok lì è ancora in quel modo non mi ha visto non mi ha visto perfetto 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 ok andate qua velocemente via 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 scappiamo 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 adesso qua dovrebbe esserci un altro mini rodd vediamo oh 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 non mi ha visto e vai sono riuscito finalmente a raggiungere questo posto della fabbrica senza farmi vedere da neanche un mini rodd meno male mamma mia sfida vinta abbiamo vinto la sfida ok perfetto no 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 ok niente ok niente ok non mi ha visto non mi ha visto è venuto subito di qua avete visto avete visto che è venuto di qua facciamo attenzione perché alcune volte il mini rodd passa anche da quest'altro lato mini rodd sei di qua non è di qua perfetto ok adesso proviamo a fare una cosa proveremo a guidare il furgone di rodd cosa ci fanno questo qua cosa ci fa ma da dove è uscito fuori quel mini rod da dove è uscito fuori mettiamoci qua troviamo un punto dove possiamo guidare il furgone in totale tranquillità ok andiamo di qua veloci 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 senza farci vedere da nessuno perfetto allora col nuovo aggiornamento della mod di outfit hanno messo questo nuovo pulsante questa nuova funzione che si chiama appunto drive menu un menu che ci consente appunto di poter guidare e quindi eccoci qua siamo diventati il furgone di rodd ma perché mi ha fatto diventare in questo modo al contrario sono sono bloccato aiuto allora torniamo normale torniamo normali via 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 ma cosa ha fatto quel mini rodd cosa ha fatto volevo guidare quel furgone però se sono bloccato qua non posso guidarlo allora torniamo qua ok guardate qua sto guidando il furgone di rodd all'interno della fabbrica ok muoviamoci qua solo che qua non posso muovermi sono bloccato enorme sto furgone è veramente enorme ok allora andiamo di qua voglio provare a fare una cosa voglio provare ad investire boris con questo furgone vediamo se ce la facciamo mettiamo qua no clip tutto quanto via saliamo di sopra e dove siamo qua dove ci troviamo ok andiamo qua dritti boris preparati perché adesso ti investirò un panino modalità furgone verrà e ti prenderà togliamo quello clip mettiamo qua il drive menu e adesso guidiamo qua cosa non vedo niente cosa sta succedendo cosa sta succedendo allora togliamo qua il drive menu ok rimettiamolo bene qua ma perché mi fa comparire qua insomma allora e che roba guardate ma che sta succedendo cosa succede aiuto sto furgone non si muove più da notare qua come ci sono arrivato qui sopra come ci sono arrivato qua eppure non ho neanche il no clip su rientra qui dentro vediamo se riusciamo a prendere qua il mini rodd con il furgone cos'è ma cosa sta succedendo qua cosa sta succedendo però notate una cosa praticamente quando io divento un furgone il furgone è rivolto con la direzione opposta alla mia quindi proviamo a fare una cosa va anziché diventare furgone da questo lato ci diventiamo qua in questo modo ok 3 2 1 e diventiamo un furgone no niente non cambia niente non cambia niente che sta succedendo qua perché ma perché mi diventa in questo modo a quanto pare abbiamo capito che con il furgone non possiamo muoverci all'interno della fabbrica però possiamo fare un'altra cosa possiamo muoverci all'esterno della fabbrica lì quindi proviamo a fare una bella cosa proviamo a portare fuori un boris e dopodiché proviamo a prenderlo schiacciarlo con il furgone del gelataio ok quindi mettiamo qua no clip come sempre ce ne usciamo fuori dalla fabbrica ok togliamo quel no clip voilà e adesso prepariamoci a far comparire tanti becloni di boris andiamo qua su enemy menu che si trova non lo vedo perché qua fanno sti menu troppo piccoli perché fanno le mod così piccole che non si vedono niente non si vede niente ok tanti boris uno dopo l'altro adesso andiamo qua su drive menu e diventiamo quel furgone ok guardate qua il furgone di rod sto guidando il furgone del gelataio sempre se riesco a guidarlo ok giriamoci qua perfetto adesso va indietro in questo modo uh pure la visuale della retromarcia fa vai colpiamo i boris con il furgone perfetto guardate avete visto avete visto ho preso un boris è diventato un fantasma boris prendene un altro qua un altro ancora ma che sta succedendo ma sti boris fantasmi ma perché diventano dei fantasmi poi una volta che li prendo prendi quest'altro boris ok perfetto solo che adesso sono rimasto bloccato ok togliamo qua via 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 dove sono i boris fantasmi che ho preso prima non si vedono eccoli qua c'è un boris fantasma vai che bello spettacolare solo che stanno così a terra no stanno con le braccia conserte a terra abbassati in questo modo come se nulla fosse come se nulla fosse adesso invece proviamo a fare un'altra bella cosa proviamo ad investire tanti bei roddini e li spargo un po' così all'interno della mappa dopodichè mettiamo la modalità furgone e proviamo a schiacciarli uno dopo l'altro quindi andiamo qua su enemy menu e mettiamo tanti bei cloni di rodd tanti roddini qua uno dopo l'altro ma come tutti i roddini sono stati distrutti mette qua mette qua tutti i rodd ok quanti ne abbiamo messi 12 rodd perfetto e adesso diventiamo qua dei furgoni e li schiacciamo tutti quanti andiamo qua su enemy menu togliamo prima il ghost mode così i rodd mi possono vedere roddini venite qua venite qua guardate qua quanti rodd che mi stanno seguendo quanti roddini vieni 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 rodd vieni vieni non ti bloccare perché non si muoveva oh perché non si muove non si muove il personaggio ah ecco perché non si muoveva perché ero circondato via 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 scappiamo 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 perché non si muove alcune volte non capisco perché non si muove vabbè mettiamo qua su drive menu e diventiamo qua dei furgoni ma cosa è successo ma guardate qua ma che volo che si è fatto no vabbè bellissima sta cosa bellissima vai guidiamo il furgone di rodd e ce ne andiamo via solo se qua adesso sono rimasto bloccato perché dietro c'è un boris fantasma allora togliamo qua e adesso ce ne scappiamo via con il furgone del gelataio ce ne andiamo via da questo posto ma cosa chi si è svegliato aiuto c'è ancora un rod da queste parti dov'è ah tutti si sono svegliati praticamente tutti quanti allora facciamo adesso una bella cosa un bello esperimento su roddini toglietevi tutti toglietevi tutti che adesso devo togliere qua scusate per favore roddini andiamo qua su object menu niente mi hanno portato dentro direttamente problema risolto problema risolto togliamo qua adesso il furgone di rodd perfetto togliamo adesso qua oggetto distruggi vai e adesso ce ne scappiamo via con il furgone del gelataio ce ne andiamo via da questo posto ce ne scappiamo come se nulla fosse andiamo qua su drive menu come abbiamo fatto prima tra l'altro questi pulsanti qua c'è nc nc plane cosa fa ah no aspettate guardate il furgone che noi guidiamo è ripieno dentro c'è qualcosa non è vuoto come l'altro furgone spettacolare bellissimo ok allora rimettiamo qua come prima e vai abbiamo preso il furgone di rodd il furgone del gelataio adesso ce ne possiamo scappare via da questo posto scappiamo via 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 ok oh no 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 facciamo attenzione comunque che bello sto guidando il furgone di rodd ho rubato il furgone al rodd e adesso ce ne andiamo via da questo bruttissimo posto da questa bruttissima fabbrica via scappiamo 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 se no che adesso qua come ci vado e qua non lo posso distruggere però non posso distruggerlo vabbè sentite facciamo una cosa togliamo qua la modalità perfetto ci mettiamo qua in modalità drive eh sì però mettimi in una posizione più comoda qua per uscire scappiamocene via ok su su muoviti muoviti qua girarti come si deve via di corsa gira fai manovra ce ne scappiamo via da questa fabbrica dritti verso la fuga verso la libertà no 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 andare dietro andare così non sbattere retromarcia retromarcia perfetto via di corsa ce ne andiamo non so dove non so dove vai no ma mettevo qua ad esempio il god no clip si può mettere però mi sa che con il no clip qua faccio un'altra cosa va e andiamo qua su coso com'è che si chiama drive menu togliamo la modalità per guidare ce ne torniamo di sopra solo che adesso io qua com'è che torno dove vado dove vado dove mi vado a comparire che qua ormai sono caduto fuori dalla mappa sono sparito fuori no io mi stavo veramente divertendo vabbè facciamo una cosa va usciamo fuori qua dalla partita ne faccio ripartire un'altra ma questa volta proveremo a guidare il furgone sul tetto della fabbrica tocchiamo gioca proviamo a fare quest'altro esperimento così ci divertiamo per bene a rubare il furgone del gelataio e a guidarlo come piace a noi ok mettiamo qua no clip via di corsa saliamo di sopra perfetto ci ritroviamo qua sopra il tetto della fabbrica e adesso da qua ci divertiremo guidare il furgone perfetto togliamo qua il no clip mettiamo qua su drive menu diventiamo qua il furgone no 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 non scendere non scendere non scendere perché adesso ti faccio scendere io come si deve vai di corsa scendiamo con il furgone vai che bello ah 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 ma che bella cosa no no veramente sta cosa qua di poter guidare il furgone sta andando avanti da solo tra l'altro cioè guardate qua le mani dove ce l'ha non ti buttare non ti buttare per favore per favore ho fatto la seconda partita apposta perché ero caduto prima allora togliamo qua la modalità per poter guidare la modalità guida mettiamo no clip vediamo se riusciamo a sbloccare qualche nuovo finale dove noi siamo praticamente cari il furgone e premiamo il pulsante perfetto andiamo qua stanza di controllo togliamo quel no clip e no 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 scendi qua e però che roba e però che roba qua che mi toglie il no clip perché mi va qui sopra quando tolgo il no clip ma perché mi ritrovo qua oh ma ce la fa ma ce la fa ad andare qua mi sa che devo mettere qua la modalità guida con j in questo modo altrimenti non posso fare niente andiamo qua sul drive menu perfetto ma guardate qua ma che sta succedendo ma che sta succedendo va bene dai direi di fare una cosa direi per il momento di fermarci qua con il video fatemi sapere cosa ne pensate spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi raccomando spalicciate che dividete iscriviti al canale con la campanella attiva noi ci vediamo al prossimo video come sempre vi auguro buona giornata buona serata buona notte ciao a tutti e buon panino a tutti ciao a tutti